Da noi in Italia non muore nessuno di diarrea, invece quando la diarrea colpisce queste epidemie bambini africani si vede che praticamente muoiono e c'è un'accettazione della morte nel bambino in Africa che è una cosa veramente che mi turba, professionalmente e umanamente. È il professore Italo Farnetani, pediatra, a promuovere personalmente la costruzione di un ospedale pediatrico in Kenya. La raccolta, non l'unica di sicuro, avverrà durante una cena, le cui spese saranno interamente sostenute dall'imprenditore Marino Franceschi. Tutto il ricavato dunque andrà a favore di questo importante progetto. Verrà costruito in una missione delle suore del Cottolengo di Torino. Io mi sono preso il compito di realizzare sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista della raccolta fondi, cioè di pagare un ospedale pediatrico, in quanto questa missione che si trova a Toru, esattamente all'Equatore, si trova in una zona in cui l'ospedale più vicino è a due ore di macchina, un ospedale per adulti, che però quando c'è la stagione delle piogge non sono raggiungibili. Io conosco tanti luminari che sono disponibili a venire in Africa, c'è per esempio uno spagnolo che è il massimo esperto mondiale di malattie infettive, c'è un endocrinologo, un pediatra italiano, il migliore d'Europa, un neonatologo che è stato presidente di tutti i neonatologi d'Europa, che mi hanno dato la disponibilità, quando sarà operativo l'ospedale, di poter venire operare giù. In più ho fatto varie già convenzioni attuate, già in attuazione con varie università italiane, che manderanno gli specializzanti a formarsi in Africa, perciò saranno dei formatori e dei formati, a livello di una partnership fra università italiane e strutture sanitarie del Kenya. La finalità, i bambini di Capolone e Subbiano offrono la mano ai bambini dell'Africa con questa cena, con le loro poesie, le loro canzoni e la loro performance serale. Quindi il 16 venerdì sera tutti a Subbiano a dare il proprio contributo, quindi c'ero praticamente oggigiorno è un'inezia.